Ha parlato di un percorso di trasformazione della cassa. In cosa consiste? Consiste nel fatto che per arrivare a determinare quello che noi chiamiamo impatto significa cambiare la modalità con cui noi operiamo, con cui noi prendiamo le nostre decisioni quindi di finanziamento e di investimento, integrando l'analisi non sulla base esclusiva di dati finanziari ed economici, ma completandola guardando a qual è l'impatto quindi su tematiche di ambiente, su tematiche sociali, su tematiche di governance che le nostre azioni comportano. Per farlo significa elaborare delle metodologie, per avere delle metodologie bisogna avere dei dati, per avere dei dati bisogna avere dei sistemi informatici, quindi quando intendo c'è un percorso trasformativo significa riuscire a mettere insieme questi nuovi fattori per poter essere un attore sempre più consapevole delle cose che fa. CDP ha presentato anche la prima relazione non finanziaria, quanto è importante la sostenibilità? È molto importante per noi, ma lo sarà per tutti nel raggio di poco tempo, perché la cosa che io ho detto recentemente è che il fatto che ci sia una relazione finanziaria e una non finanziaria non significa avere dei due mondi diversi. Oggi sono due documenti diversi perché si sta imparando ma a tendere in realtà ci sarà un'unica relazione che sarà un insieme di tematiche finanziarie e di tematiche di impatto e peraltro tutta Europa si sta muovendo in questa direzione.